Amici recenziani, oggi parliamo dell'allegato del topolino 33-32. Iniziamo! Amici recenziani, bentornati sul canale. Questa è il recenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm. Come già vi ho detto parleremo dell'allegato che è uscito con il topolino della settimana scorsa che però voi in realtà vedrete dopo questa puntata. Ho anticipato un poco perché mi sono ritrovato con un buco nella programmazione, non dovrei dirlo ma questi sono i fatti. Parliamo quindi oggi di questo cartonato della Panini, Topolino, la scienza raccontata appunto da Topolino. Con ovviamente la prefazione di Piero Angela. Sono in realtà quattro storie e quindi andiamo subito a vedere quali siano queste storie. La prima storia è Topolino e l'esperimento del dottor P. Questa storia prende a pretesto uno degli esperimenti fatti dal professor Albert Einstein sulla gravità. Topolino e Pippo sono invitati caldamente dai professori Marlin e Zapotec a partire per un viaggio nel tempo e ritrovare uno scomparso Einstein che non ritrovano più in una fotografia dell'epoca. Se i due non dovessero riuscire a trovarlo il futuro cioè il loro presente e il loro poi futuro sarebbe messo in grande pericolo. Topolino e Pippo scoprono così che il professor Einstein è stato rapito e così sfrutteranno un'osservazione fatta proprio da Albert Einstein sull'annullamento della gravità di un corpo in caduta libera. La storia è davvero geniale perché riesce a inserire all'interno della trama tanti piccoli concetti, tante piccole osservazioni sulla fisica e sulla matematica facendoli e rendendole comprensibile a tutti rendendo al contempo la lettura e lo svolgimento proprio di questa trama in una maniera molto semplice e comprensibile. Ovviamente molto bello è anche il disegno che seppur è carico di dettagli in ogni vignetta risulta comunque molto fluido alla lettura e quindi anche se ogni vignetta è affollatissima di personaggi e di dettagli rimane comunque bella, chiara, semplice e immediata da leggere. Tra l'altro se siete riusciti a capire il nesso tra la parola fine e quella strana equazione fatemelo sapere perché io sono un ignorante in materia e quindi non ne capisco praticamente nulla. Lasciatemi un commento qui sotto. La seconda storia che troviamo in questo volume cartonato è Zio Paperone e le molecole in affitto. Torno a vedere la meravigliosa linea modulare di Mottura che si presta così egregiamente in questa storia. una linea che prevede dei personaggi disegnati con questo contorno molto presente, molto morbido, molto dinamico, molto appunto modulare ma all'interno delle figure ci sono tanti piccole linee, tanti piccoli azigogoli molto barocchi che così caratterizzano in maniera stupenda i personaggi e ovviamente anche gli sfondi che li accompagnano. Racchiudendo così questi speciali e spettacolari disegni in vignette che risultano molto molto dinamiche. La storia è molto semplice. Vede Zio Paperone interessato all'esplorazione lunare soprattutto per poter trivellarne il suolo e estrapolare così l'elio 3, un isotopo che gli serve nei suoi laboratori di ricerca in modo da poterlo vendere e non doverlo più comprare. Ovviamente quando si parla di Zio Paperone e di una sua corsa all'oro o all'elio 3 che sia quindi il Klondike o la Luna, c'è sempre un pivello che gli va di torno che si mette in mezzo e assieme a quindi Rokerdak in questa storia appaiono la banda Bassotti. In questa storia quindi gli elementi scientifici in realtà si rifanno quindi all'astronomia e alle conoscenze che servono per poter vivere al di fuori della sfera protetta che è la Terra. Sottolineando così proprio durante la narrazione quali siano le difficoltà di vivere in un ambiente non controllato in un ambiente con una gravità diversa appunto da quella della Terra e tutte queste nozioni ci vengono offerte dalla collaborazione con l'astrofisico Amedeo Balbi. La terza storia che troviamo è Paperino e i ponti di Quackenberg. Siamo nel 1736 questa volta e il protagonista della storia è Leonard Euler o italianizzandolo Leonardo Eulero. Paperino è il fattorino di nonna Papera e ogni qualvolta deve consegnare quindi le sue prelibatezze è costretto a dover pagare i pedaggi al passaggio sui ponti di questa città. Il problema quindi sono proprio le tasse e il fatto che lui passi di continuo su questi pedaggi, su questi ponti pagandone così i pedaggi. Un po' sfidato anche dal borgomastro Paperone, Paperino cerca la soluzione per o evitare di passare su tutti e sette i ponti o di pagare di meno. Ad aiutarlo è Eulero De Paperis che farà attendere la soluzione quasi fino alla fine della vicenda. C'è persino in questa scansione a vignette un richiamo, una strizzatina ad occhio a una bellissima scena tratta dal film Non ci resta che piangere di Massimo Torisi. Se avete capito qual è ditemela nei commenti qui sotto perché l'ho trovata una sfumatura molto molto carina, molto divertente. Grazie così all'aiuto di un insegnante di analisi dell'Università di Pisa, Alberto Saracco, entriamo questa volta nel mondo della geometria. Il disegno è molto carino, molto interessante perché alterna delle vignette cariche di dettagli ad altre invece nelle quali gli sfondi scompaiono lasciando i personaggi in primo piano o comunque isolati dallo sfondo su uno sfondo bianco che così non solo ritma la vicenda ma ne dà una grande dinamicità soprattutto all'occhio. Occhio che così rimane incantato non solo per le tavole piene quindi così di colore e di dettagli ma anche in quelle nelle quali i dettagli scompaiono a favore di dialoghi e di una presenza più particolare dei personaggi. L'ultima storia in realtà già la conosciamo perché l'abbiamo già vista nel topolino 3289. Se volete vi lascio qui a schermo e sotto nell'info box i riferimenti per rivedere questa puntata. Ovviamente ne riparliamo solo di questa storia in questo momento. Sto parlando così di topolino in Che fine ha fatto Peter Quarchi. Ultimo protagonista è quindi Piero Angela famosissimo divulgatore scientifico presente nel palinzesto italiano soprattutto quindi nella Rai e in questa sua versione paperinizzata come già abbiamo visto lo troviamo alle prese con la sfida più importante che è quella proprio di distinguere la verità dalla falsità la verità scientificamente osservata studiata e sperimentata dalle bufale. In questa vicenda Peter Quarchi scompare e a dover capire che fine abbia fatto è proprio topolino che si mette alla ricerca di questo famoso divulgatore televisivo cercando di far luce così sul mistero che avvolge questa sparizione. Come già ho detto nella puntata precedente il disegno è molto classico coinvolgente una linea molto semplice ma particolareggiata quindi nei dettagli che catturano lo sguardo del lettore di vignetta in vignetta. I colori sono anche molto interessanti perché alternano campiture di colori a tinte piatte e altre invece in cui le campiture sono cariche di sfumature. Se devo essere sincero avevo comprato questo volume pagando così il sovrapprezzo perché non è uscito con l'abbonamento pensando di trovare in realtà quattro storie per me completamente nuove cioè non solo per me per tutti. Il problema è che la Panini sa fare un grandissimo marketing e le copertine cartonate quando parliamo quindi di un fometto topolino attirano sempre. Fesso come sono e non posso dare la colpa alla Panini mi sono buttato e l'ho comprato. Penso che non accadrà mai più ma mai dire mai perché in realtà queste come abbiamo visto nell'ultima storia sono in realtà fumetti che già sono usciti nei numeri passati e anzi come avete visto quando apparivano i titoli io vi ho messo anche il riferimento a quale fumetto da quale fumetto sono state estrapolate queste storie quindi in realtà non abbiamo nulla di nuovo sotto al cielo però visto che io ho solo questo fumetto e quindi la storia da cui è uscito mi è fatto comunque piacere leggere le precedenti tre perché non avevo quei numeri e quindi per quanto mi riguarda è stata una buona e una bella sorpresa. Se magari avessi avuto anche le storie passate, quei numeri passati avrei storto un poco più il naso ma tre storie nuove su quattro mi è andata tutto sommato bene. Fatemi sapere quindi voi se avete letto queste storie quando sono uscite nella pubblicazione ordinaria o se anche voi avete comprato questo numero del topolino con la scienza raccontata da topolino. Un'edizione devo dire la verità molto carina bellissima da tenere tra le mani perché mi fa tornare indietro nel tempo quando avevo i libri di mio padre i fumetti di mio padre le raccolte disney di mio padre che era bellissimo da sfogliare e di nascosto scarabocchiare perché già all'epoca mi piaceva disegnare e siccome non tutti gli albi erano a colori ma in bianco e nero i colori ce li mettevo io. Penso lo abbia scoperto sono passati un po' di anni. Comunque sia io vi ringrazio per la visualizzazione vi ricordo che se questa puntata vi è piaciuta potete mettere un mi piace e condividerla con i vostri amici. Iscrivetevi al canale attivando la campanella per le notifiche e mi trovate in tutti i social network che vi lascio qui sotto in descrizione ma soprattutto su www.retrattinocenso.it e nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziani. Io sono Dario questa era Recenso e noi ci vediamo venerdì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su Recenso pronti a sfogliare nuove storie e volare nel mondo della fantasia.